Il presidente del Kosovo, Hashim Taci, è pronto a difendersi. Accusato di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, Taci compare questo lunedì davanti ai giudici del Tribunale Speciale dell'AIA che indagano sui crimini commessi dall'esercito di liberazione del Kosovo, LUCK, nel conflitto armato con la Serbia del 1998-99. Lo difende l'avvocato inglese Jeffrey Nice. Il Tribunale Speciale, il 24 giugno scorso, ha sollevato accuse di crimini di guerra, comprese un centinaio di omicidi nei confronti dello stesso Taci, che è stato in passato uno dei leader dell'UCK, la guerriglia indipendentista albanofona che combatté contro i serbi. Analoghe accuse sono state sollevate nei confronti di altri ex leader e combattenti dell'UCK, tra cui Kadri Veseli, ex presidente del Parlamento kosovaro. La formazione paramilitare è stata sciolta nel 1999, l'anno prima era stata inserita dall'ONU nella lista delle organizzazioni terroristiche. Sempre nel 1999 ci fu l'intervento aereo della Nato contro la Serbia, concluso dopo 78 giorni, che costrinse le truppe serbe a fermare la brutale repressione contro i kosovari di etnia albanese e ad abbandonare il Kosovo. La Serbia non ha mai accettato l'autoproclamazione di indipendenza del Kosovo, avvenuta nel 2008.